Presidente partiamo da un finale davvero pesante difficilissimo da gestire ovviamente se tu il punto di riferimento ti trovi tu a commentare questa matematica retrocessione del Manfredonia dopo una partita in cui è successo di tutto che probabilmente è la fotografia di questa stagione Obiettivamente io ci metto la faccia sono venuto qui perché è giusto assumersi le responsabilità questa annata è stata per noi un'esperienza importantissima che non dimenticheremo mai così come per la città di Manfredonia ci sono stati degli errori importanti sia da parte della società che da parte del staff tecnico che da parte dei giocatori oggi è l'epilogo di questa annata così altalenante contro le squadre dirette concorrenti abbiamo raccolto appena un punto su tre partite oggi l'agonismo non è mancato non posso dire nulla però chiudere la prima parte del primo tempo con un 3 a 0 in casa contro un Polistena che era già retrocesso credo che ancora una volta siano tremate le gambe non si sia stati capaci di concretizzare e portare avanti alla prossima giornata la matematica retrocessione però anche in altre occasioni con il Catania con l'Indidio Ostia dovevamo giocare diversamente per cui questa esperienza c'è mancata gli errori individuali anche oggi sono comparsi poi c'è l'errore arbitrale c'è la sfortuna ci sono i legni fa parte tutto del calcio alla fine di un'annata si fanno i condi dei pro e dei contro e io credo che questa retrocessione alla fine è sul campo Analisi lucidissima la sua le chiedo ovviamente di capire anche che cosa potrà succedere domani perché questo è un patrimonio per quel che riguarda la provincia la zona questo è un patrimonio anche per la Puglia perché la regione non aveva una squadra in Serie A da tanti anni adesso bisogna ripartire probabilmente anche risettare e cercare di fare qualcosa di buono nella prossima stagione perché le basi nonostante tutto si sono create beh per la regione non tanto perché non credo che ci abbiano dato attenzione più di tanto oltre a voi abbiamo avuto un'oscurità assoluta da parte di tutte le emittenti televisive per cui non devo ringraziare nessuno questa è stata una Serie A fatta grazie al sacrificio degli imprenditori locali Vitulano, Sim, Webbing, qualcun altro ma sacrifici personali da parte mia e dall'altro direttivo i miei colleghi con cui abbiamo condiviso tantissimi sacrifici per il resto i calciatori vengono pagati il mister viene pagato, lo staff tecnico viene pagato evidentemente non era negli obiettivi la retrocessione quindi qualcuno come me dovrà pur venire a darvi spiegazioni per quanto mi riguarda a livello personale credo che al 90% lascerò questo sport perché a livello personale tolgo molto tempo come vedete anche a livello emotivo non riesco a subire perché forse sono l'unico che poi non solo ci mette la faccia ma come avete visto ho dovuto gestire anche l'ordine pubblico giocatori che erano nervosi e se lo sono loro che vengono pagati da professionisti non è che lo devo fare io che per me è un divertimento per cui la mia sarà una valutazione a freddo perché come sapete è a caldo però ci stavo pensando già da tempo è una valutazione a freddo